Secondo me la chiave poi alla fine è accettare le nostre debolezze e anche i nostri fallimenti, cosa che magari molti giovani oggi non comprendono, non sono abituati al fallimento, devono essere sempre per forza i più fighi, i più forti, i più bravi, numeri uno, quindi quando magari qualcosa inizia a scricchiolare, come giusto che sia in tutte le carriere, in tutti i lavori, allora poi ci sono quei down incredibili, quindi sbagliamo, ma sbagliate, ma Dio benedica le persone che sbagliano e che amano sbagliare. In effetti è vero. Ed ora lui, il grandissimo, il frizzantissimo Giacomo Faiate! Tutto qua? Grazie! Grazie, 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 grazie! Sono dei posti vuoti, mi fanno incazzare i posti vuoti e tra l'altro sono quelli che mi tieni il posto che vengo, eccoli là, siete voi? Comunque, anche lì mi fanno incazzare, tienimi quel posto lì a destra, di fianco alla signorina con gli occhiali, perché il suo fidanzato? Sì? Ah, era il cesso, mi scusi, mi scusi, mi scusi, non volevo farle fretta che magari... Vabbè, 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 grazie, 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 grazie. Oh, che bello, sono contento che abbiate riempito il teatro Oscar anche questa sera. Quanti di voi le prime volte che vengono qua? Io, 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 tutti, cazzo, io, tutti, ma tutti, ma dove eravate, porca miseria, ma... Bastardo! Ma ci sono delle guardie del corpo lì che pesta di brutto, eh? Allora, cioè, lì a sinistra già mi stanno un po' sui coglioni, perché? Quelle due lì vanno al cesso, quello là, vabbè, parlo con loro, va bene. Allora, no, sono contento che siete qua al teatro Oscar. Allora, questo è il luogo dove si registrano le puntate del podcast, ma questo è un teatro a tutti gli effetti, perché da settembre fino alla fine di maggio c'è tutta una programmazione di spettacoli meravigliosi e se non lo sapete, prendete, procuratevi il programma che lo trovate lì all'inizio. Sì, non mi guardate come se vi avessi detto un'equazione di terzo grado, eh, cioè... Vabbè, non stai con cazzo. No, è bellissimo, ci sono delle cose meravigliose, eccetera, eccetera, eccetera. Però, signore e signore, questa sera siamo qui per l'ennesima puntata del podcast e ho il piacere di presentarvi un'artista incredibile, ladies and gentlemen, Emma Marrone! A introdurre Emma Marrone, signore e signori, la band degli Anagrammi! Accomodati! Emma, ho preparato una sorpresa per te, perché tutti gli altri ospiti non ce l'avevano. Guarda! Dove devo guardare? Aspetta, tu non l'hai visto? No, non ho capito la sorpresa. Ah, si accende! Wow! Eh? Grazie! Un omaggio floreale, anche. Bello! Asciò che, beh... Intanto, è finta? No! No, è vera, è... È una merda vera. No, ma vaga, a casa mia sono tutte finte. Sono tutte finte? Sì, se non muoiono. Ma questa è vera, ma sembra finta. Non lo so. Comunque, le voglio bene. Sì. Cioè, qui da un anno e mezzo non ha mai cambiato né colore né aspetto. Perché non ha bisogno di niente. Quando le persone non hanno bisogno di niente, per assurdo, gli vuoi ancora più bene, capito? Perché non rompono i coglioni. È così. Allora, se tu dovesse avere sete... C'è l'acqua qua. Un po' scomoda per la sciatica, ma ce la faccio. Ce la faccio io, faccio io. Aia. La apro? Sì, perché se no il tappo... No, ma adesso le fanno col tappo quello che rimane attaccato. È giusto, è ecologico, ma fa incazzare. Sì, esatto. Vero? E uno cerca di staccarlo, poi si bagna tutto. Ingegneri hanno lavorato per fare questa cosa del tappo. La conosco, non la prendo in giro. Però avete visto che si è introdotta? Trac, ha aspettato il buio. Trac, si è... Scusa, eh. Allora, cioè non so come chiama cantante, attrice... Giusto, giusto, non vedo errori. No, scusa un attimo. Poi ha detto da una donna vale doppio. Allora, mettiamoci d'accordo, cazzo. Sei la moglie di quella dell'Arcimboldi, tu? Finché vi siete proprio trovati voi due, eh? Vabbè, spegni la luce... Minchia... Allora, se sei un pubblico caloroso... Bellissimo! Beh, guarda, non è mai successo... Ma te perché stai qua e non sulla poltrona? Mi do fastidio? No, no, era... Così, niente. Mi do fastidio? No, ormai l'hai detto, vabbè, vabbè, vabbè... Dai, era una curiosità... Era per star vicino alla pianta, capito? Ah, ok, vabbè. Era quello. Così? Allora, no, ascolta, cioè cantante, attrice, coaching... Come vuoi essere definita? Emma. Che racchiude un po' tutta sta roba. Eh no, però cacchio, tanta roba, cioè... Sono una persona eclettica, sono una persona che non si è mai voluta rinchiudere in dei paletti, in delle costruzioni mentali, sono curiosa, sono una persona molto curiosa e la vita e il lavoro mi danno l'opportunità di intrufolarmi anche in cose che apparentemente non sembrerebbero mie, poi magari alcune le faccio bene, altre meno, però almeno mi diverto. Senti, no, ma mi devi togliere una curiosità, perché... Anche due. Perché quando tu sei emersa, se posso dire, praticamente con amici, ecco, quei programmi lì, siccome io se vuoi ti racconto la mia e la nostra esperienza di noi tre, io ho sempre vissuti con un'ansia pazzesca quelle competizioni, tu come l'hai vissuta quell'esperienza? Senza ansia, la musica è l'unico posto dove non ci metto l'ansia, perché poi per il resto la mia vita è tutta un'ansia perenne, però vabbè, ci ho fatto pace. Ma sai cosa era talmente tanta la fotta, la fame di riuscire in questo sogno, che io poi divento un treno, sono veramente... Sono un cavallo, con le pezze agli occhi e vado dritta, quindi... Ma non la vivevo come una competizione, sapevo che quel posto magico mi avrebbe aiutato in qualche modo a emergere e a cercare di far diventare una passione, un sogno da bambina il mio lavoro. Poi vabbè, dopo amici, fino ad oggi non ho fatto altro che lavorare tutti i giorni della mia vita, perché tutto quello che ho me lo sono costruita pietra dopo pietra, soprattutto quelle che mi hanno lanciato. Io le ho prese e ci ho fatto un castello, capito? Le usate, alla fine. Senti, spesso le famiglie sono importanti, se non decisive, per lo sviluppo dei nostri sogni, no? Cioè tu, a casa tua devi ringraziare qualcuno, se canti, come canti? Ma tutti, fortunatamente in casa mia si è sempre respirata tanta musica, perché mio papà suonava la chitarra e si ascoltava sempre tanta musica, mia mamma cantava, quindi sono cresciuto in una famiglia dove la musica era presente tutti i giorni, però sai da piccolina non collegavo, non volevo fare la cantante, io da piccola volevo fare la ginnasta. La ginnasta! La ginnasta! Non si direbbe però... Pliè? No, io proprio la ginnasta, gli esercizi fisici, i salti, la trave, le parallele, sì. Cioè andare alle Olimpiadi? Esatto. Triplo salto mortale? Sì, adesso è così, capito? Anche per me. Ma l'hai fatto un po'? Sì, 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 tutti mi allenavo, mi allenavo, mi allenavo, mi allenavo, però insomma, sai, vivevo comunque in un piccolo comune del sud Italia, quindi molte cose, quelle particolari, non venivano viste, come dire, con serenità. I genitori erano comunque spaventati, perché poi una certa mi aveva visto pure il coni, che poi mo' sempre così, però da ragazzina jemenavo sulla trave. E quindi ho detto, ah, prendiamo la ragazzina, la portiamo a Roma, studia a Roma nel coni, però all'epoca andare via di casa a 11 anni, ma che c'è, che te mannava? Per andare a fare la trave. La trave, poi, capito? Che fai? Faccio la trave. E quindi, vabbè, primo sogno infranto. Poi però... Bravi, brava. Ero brava, ero in forma. Ma cos'è che facevate, scusa? Lei l'ho pagata, in realtà l'ho pagata. Scusi, ma non deve andare al cesso, lei. Ma quella, guarda, che è l'eco della voce della mia autostima. Ogni tanto. E poi crescendo, piano piano. No, aspetta, aspetta, scusa, un minuto, no? Perché siccome mi piace quella disciplina olimpica della ginnastica, facevi la trave anche le... Eh sì, gli esercizi a corpo libero, ruote, verticali, flick, ribaltate, spaccate. Anche io ho tentato di fare delle ruote. No, se casca la penna la lascio per terra, nel senso. Caduta a niente. Bello, bello, bello. Quindi va bene, insomma. E poi? E poi intorno ai... Poi però ero anche molto timida. Lo so, ci sono molte cose che non combaciano, ma la coerenza sotto certi punti di vista non fa parte di me, fortunatamente, anche a volte. Quindi però poi mi vergognavo a cantare, ma io mi vergognavo pure a dire le poesie a Natale. Sai, poi al sud ti metti sulla sedia, dici la poesia. Ta, diecimila lire. All'epoca, scusate, c'erano le lire ancora. Che sembro giovane, ma... E io non la dicevo la poesia, capito? Mi è capitata anche a me. Mi vergognavo io, gli occhi dei parenti. Vediamo se sbaglia una parola, vediamo se la sa. E quindi quella forma di competizione tra cugini, a chi le dice meglio, eh. Io mi tiravo sempre indietro, non la so, ma me la ricordo. Però la musica mi piaceva. Io ho fatto una figura di merda una volta, così, all'asilo. Eh. Qua, sai, sono i piccoli, i mezzani, i grandi. Io ho sempre fatto i piccoli, sempre. Anche quando ero grande, no? E a un certo punto ero nella classe dei grandi, cioè mi hanno scambiato per un piccolo, no? Vieni che devi dire la poesia davanti. Io mi vergognavo come un cane, sai che lì tutti, a un certo punto, andate, 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 andate. Mi sono fatto la pipì addosso. E lì, io ho detto, beh, la mia carriera è finita qua, no? Oppure, l'hai proprio benedetta con quella pipì santa. Mi aspetto un commento di... Allora, dopo, dopo, ma si sta scaldando, sta studiando la situazione perché ha capito che potrebbe essere un elemento portante di questa puntata quindi le cugine la timidezza ma poi quando sei sciolta sta timidezza ma ci sto ancora lavorando in realtà ma si è sciolta quando ho capito che per fare questo mestiere un minimo meno orso dovevo riuscire ad essere ancora stiamo lavorando però la gente mi conosce per quello che sono fortunatamente non mi sono mai mostrata per un'altra persona anche quando non mi conveniva farlo quindi se me vedono storta lo sanno quindi mantengono la distanza almeno sono onesta non è che adesso uno fa il cantante allora tutti i giorni sono felice che bella la musica sei famosa le foto ti truccano sei vestita non è che poi tutti i giorni anche a te ti capiterà mi canta una canzone poi ogni tanto se sto in buona la canto pure mi capita ai ristoranti ah c'è il complesso canti tanti auguri vabbè tanti auguri anch'io lo so cantare allora dico va bene cantiamo tanti auguri e poi è che mi chiedo non mi raccomando mi dai una barzelletta sì 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 ecco sì vabbè però dai c'è sta e quindi niente sì 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 così è tutta che cazzo no ma è vera sta roba della timidezza diciamo chi lavora nel mondo dello spettacolo che sia un cantante che sia un attore eccetera molto spesso alla base c'è una timidezza che forse credo fare lo psicologo dei poveri è un così in realtà nasconde un desiderio molto grosso di non solo di apparire di essere apprezzato di essere apprezzato questo ma di di avere anche delle cose da dire sì sì c'è sempre del del disagio però io alla fine ho imparato a convivere con il mio disagio perché secondo me la chiave poi alla fine è accettare le nostre debolezze anche i nostri fallimenti cosa che magari molti giovani oggi non non comprendono non sono abituati al fallimento devono essere sempre per forza i più fighi i più forti i più bravi numeri uno quindi quando magari qualcosa inizia a scricchiolare come giusto che sia in tutte le carriere in tutti i lavori allora poi ci sono quei down incredibile quindi sbagliamo ma sbagliate ma meno ma Dio Dio benedica le persone che sbagliano e che amano sbagliare in effetti è vero non vorrei sbagliarmi ma di questi tempi mi sembra devi sbagliaci sbagliati ecco che di questi tempi mi sembra che sia molto più accentuato no questo questa pressione mi verrebbe da dire verso i ragazzi verso i giovani che devono essere performanti devono essere performativi per cui come dici tu è vero spesso succede che i primi errori e ce ne sono tantissimi soprattutto all'inizio delle carriere o anche di qualsiasi lavoro uno si demoralizzi fortemente in realtà diciamolo ma bene che è un problema di tutte le persone meravigliose di tutti gli esseri umani l'imperfezione l'imperfezione è tutto l'imperfezione è tutto mi dà la possibilità di presentare i ragazzi della no no cioè no non volevo dire cioè che cazzo avete capito avete preparato allora sai che i ragazzi oltre a suonare benissimo loro perché si chiamano gli anagrammi perché sono specializzati nel trovare gli anagrammi anche del tuo nome vogliamo sentirlo sì ebbene sì allora secondo me tra gli antenati di Emma deve esserci stato qualche cavatore o qualche rude marmista perché sicuro guardami no perché l'anagramma di Emma marrone è menare marmo menare marmo è giusto mazza oh però però c'è un'altra cosa che i marmisti hanno anche un cuore romantico infatti con le pietre di scarto sono soliti ornare mamme è sempre l'anagramma io lo trovo meraviglioso preparatevi che tra un po' vogliamo sentire qualcosa di di imperfetto di imperfetto ah ce l'avete già qualcosa di imperfetto vai 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 tanto bevo e l'anagramma 1 2 3 eh ma ma tu mi hai fatto il liceo classico ammazza sti cazzo come te la sei cavata bene allora io sono sempre stata sì studiosa però beh sono molto intelligente un pregio cioè l'intelligenza come faccio a contraddirla mi arriva una manata quindi fino alle medie fino alle medie mia mamma andava con mia mamma sì mia mamma perché mio papà non se la collava le robe genitori insegnanti ma andava sempre mia madre però mia mamma andava a scuola fino alle medie no signora che dobbiamo dirle è bravissima è studiosa è educata quando fai temi in classe la faccio alzare questo maestro delle medie professor sambati mi faceva alzare quando consegnava i temi e mi faceva leggere il mio tema alla classe perché ero molto brava a scrivere quindi da lì questo professore mi diceva secondo me lei è portata per le scienze umanistiche faccia il classico signora la scriva lei scriva il classico a me mi serviva una scuola dove c'era pochissima matematica perché se con le parole me la cavo abbastanza bene per me i numeri sono tuttora una cosa che non comprendo non cioè vedi è partito vedi è il mio alter ego è la voce della mia coscienza sono dei fisici matematici quindi vado a fare il classico quindi quarto quinto ginnasio una meraviglia bravissima in tutte le materie spieghiamolo per gli ignoranti quarta e quinta ginnasio sono i primi due anni del liceo c'era qualcuno che non sapeva la questione del ginnasio guarda sei te? che scuola hai fatto te? non l'hai fatta? no scherzo eh? a maglie industriale ah vabbè cos'è che ha detto? a maglie l'industriale minchia scuola è per fortuna non conosco te no scherzo scherzo il mio humorismo è british lo capisce solo Giacomo quindi pazzesco quarta e quinta ginnasio una bomba una bomba invece sono i primi due anni quelli di inserimento quindi il latino il greco filosofia dove un po' le persone sbarellano e solitamente vanno a fare lo scientifico o il linguistico o l'artistico o l'artistico o lo che avrei dovuto fare io e invece no illusa da quarto e quinto ginnasio da dio primo liceo che cosa succede? cosa che io non sapevo la mi hanno preso capito? una gagna cambia l'insegnante di italiano latino e greco e arriva sta tipa che mi prende proprio sul culo dal primo giorno di scuola scusa devo mettermi qua seduto perché quando arrivano le stronze guarda credimi credimi ho fatto gli ultimi tre anni proprio con la mortificazione questa mi metteva quattro e mezzo in italiano al liceo classico e mia mamma diceva ma ti droghi come hai fatto? tu se gli hai risposto ma ma sì le canne non vanno a incidere sul tema aspetta chiediamo agli esperti pure in quarto anzi ma come ma cosa è successo? non c'avevo manco i drammi adolescenziali io semplicemente mi era capitata l'insegnante che ti ha fatto che proprio mi ha fatto disinnamorare proprio di quindi tu spiegami una che va al liceo classico prima liceo secondo liceo in filosofia avevo otto otto e mezzo storia dell'arte nove italiano cinque al liceo classico non sai parlare l'italiano sì non sai fare i temi sì mi odiava perché io ero un po' ribelle il tatuaggio un paio di dread così allora siccome lei era una di quelle un po' bigotte mi ha rovinato mi ha rovinato l'amore e la passione per la scuola ma è stato brutto cioè ma brutto 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 potevamo avere qua una filosofa una filologa no? ti saresti iscritta all'università tu avresti fatto no quella non è colpa sua in realtà io volevo andare all'università ma volevo fare il dance che stava solo a Bologna e a Roma a Lecce non c'era diciamo scienze dello spettacolo sì esatto diciamo per gli ignoranti esatto scienze solo che i miei genitori non se lo potevano permettere e a me non mi andava di fare giurisprudenza solo perché c'è a 30 km da casa mia comunque chi se la colla giurisprudenza così giusto per piazza e una laurea c'è sempre qualche malvivente da e quindi vabbè mollo tu mi metto subito a lavorare però poi non sei andata quindi non sei andata all'università no mi penso che mia mamma ancora mi dice ma adesso che hai le possibilità studia quando vivo e quando vivo e quando esco ma una bella laurea lettere antiche io credo che me ne daranno un paio ad onorem tra una diecina d'anni dai qualcuna me la dà ad onorem l'ho pensato anch'io non me l'hanno ancora data questi bastardi guarda male male parca miseria perché perché io e te abbiamo lo stesso umorismo e quindi non ci capiscono parca miseria vabbè comunque siamo troppo avanti vedi l'università e niente ti metti a scrivere mi metto a lavorare no mi metto a lavorare per essere indipendente e lì cresce questa questa roba della musica anche perché poi nel frattempo suonavo nella band con papà poi avevo le mie band e quindi giravo 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 però poi non mi bastava più essere pagata birra e panini cioè io volevo proprio volevo spaccare e quindi ho detto io non ce la voglio fare e quindi in realtà poi metto su questa questa band di di musica elettronica e avevo 22 23 23 anni devo compiere 24 anni e quindi andiamo a Torino primo viaggio pendolino della notte a Torino da dove sei partita da Lecce cinca a Lecce Torino tipo arriva 15 ore di treno sto già a Malga potevo andare a Miami invece dovevo andare a Torino sto già a Malga alla Dracma Records pensa che non esiste più questa 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 label adesso c'è un supermercato e quindi faccio questo disco a Torino mi sembravate stare a New York Lecce Torino questo disco che è un disco molto alternativo però nei circuiti dell'Indy quello vero quando esisteva l'Indy nel senso che Indy vuol dire senza analira ok senza discografiche che sei indipendente indipendente povero indipendente ma con un disco in mano indipendente indipendente però inizia ad aprirsi il primo tour nei club in tutta Italia quindi i centri sociali però espatriati dalla Puglia che ridete che hanno avuto un'adolescenza probabilmente più sana e pulita della mia comunque erano belli dei centri sociali rispondi tu per me per favore vabbè comunque parte questo tour dove c'erano città anche tipo Torino Bologna quindi espatriavamo dai pub della Puglia con le nostre forze indipendenti e niente e poi è arrivato l'amico Cancro che basta la prima non il segno zodiacale no no quello brutto quello brutto sì lo stronzo lo stronzo l'altro stronzo capito e quindi ho dovuto mollare tutto quanti anni avevi? 24 anni ho chiamato la band e ho detto raga mi sa che è un problema che devo affrontare continuate senza di me abbiamo questo tour meraviglioso prendete una cantante ce ne sono tante dalle nostre parti ve le attenziono io e poi invece loro dissero no senza di te non ha senso e quindi boh senti l'hai già raccontato tante volte ma hai avuto paura? allora onesta è certa la prima volta no perché è una cosa talmente tanto fuori dalle grazie del Signore appunto grazie Signore che che non non capivo io mi sono completamente distaccata dal mio corpo la cosa che mi ha fatto spavento è stato vedere la faccia di mia madre e di mio padre quando ci è stato comunicato li ho visti tipo invecchiare di 30 anni di colpo ho visto il terrore nei loro occhi e ho detto ma chi sono questi due? cioè non li ho riconosciuti capito? ho detto mamma papà erano completamente disorientati spaventati quindi non erano forti non erano la mamma il papà erano due esseri umani completamente inermi disarmati sbarellati e quindi questa cosa mi ha un po' dato anche quella rabbia quella roba di dire risolviamo subito questa roba perché io rivolgo mia mamma e mio papà normali come erano prima di questa notizia e quindi l'ho vissuta anche un po' quasi alla cazzo dei cane capito? vabbè sempre sempre comunque sorridente non mi sono mai fatta vedere con una lacrima capito? sono sempre stata tosta chi è che ti ha sostenuto? hai trovato qualcosa qualcuno che ti ha sostenuto in quei momenti? ma io penso che nelle cose sempre più tremende nella mia vita adesso non voglio sembrare presuntuosa o supereroe però io la forza l'ho presa sempre da qua dentro dentro me stessa perché era peggio per me pensare di dover far penare la mia famiglia capito? quindi non pensavo a salvare me pensavo a salvare loro non so se mi spiego chiaro chiaro molto chiaro era quella la sfida e quindi poi ho detto vabbè questo è un segno del destino mollo la musica e troverò qualcosa e invece mia mamma nel frattempo mi aveva lei mi ha iscritto ad amici ha chiamato lei perché io ho avuto poi dopo quando è passato tutto diciamo ho avuto un momento di down perché mi ero resa conto che per mesi invece di stare in giro per l'Italia sui palchi ero stata nei reparti di brutti in un ospedale a Roma quindi anche lontana dalla mia città era tutto un po' e quindi ho detto minchia però che palla e quindi mi ero preso un po' di down così di sconforto di sconforto e lei aveva invece pensato benissimo invece la mamma ti ha fatto la sorpresa ha prenotato amici prenotato e tu come l'hai presa sta roba? dal telefono perché no c'è ah scusa beh scusa vorrei dire mi rimangio il fatto che ho detto di essere intelligente ok siamo pari siamo pari sembri amica loro capisci? esatto e quindi no come come l'hai vissuta quella cosa lì ma all'inizio ho detto mamma già ero grande cioè comunque avevo 24 anni e all'epoca ad amici c'era un limite d'età molto basso quindi ho detto ma io che ho già fatto dieci anni di rock and roll dei locali di vita di musica cioè se mi chiudono là dentro con i ragazzini di 17 18 anni io che faccio? canti canto grazie quindi avevo il mio terrore era questo gap no questa cosa che che non so se potevo performare là dentro se ero giusta non che il programma il programma è il programma più figo del mondo l'ho sempre dichiarato non sapevo se era giusto per come io ero in quel momento nella mia vita poi alla fine ho detto madre che cazzo è andata è andata benissimo è andata bellissimo si ha spaccato abbastanza è bello no? e quindi meno male che la mamma ha chiamato se non ci fossero le mamme Maria chiama Maria se non ci fossero le mamme io vorrei togliermi no non me lo tolgo cazzo allora ciao pensa io la volevo dire poi ho detto ma perché devo fare la stronza però me la stai chiamando sì perché sei intelligente ma anche un po' stronza diciamo ma tu hai le persone intelligenti c'ha un micro una micro allacerazione uno strappettino no 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 e la camicia ma la camicia è righine io ho detto prima in camerino ne parlavamo fa è faccato ma lei va dire no c'è la camicia strappata poi che devono dire ah sto pezzente manco una Giacomino ma manco si è nota no 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 fattelo dire da loro sono nudo 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 so che non mi darai una risposta banale no ma cos'è cos'è per te cos'è rappresenta la musica per te la musica è il mezzo che ho scelto per dire al mondo che esisto ovviamente c'è anche un po' di ego riferimento perché uno dice vabbè puoi anche fare un altro lavoro per dire no io volevo dire volevo urlarlo volevo volevo essere volevo essere riconosciuta nel ruolo della musica non mi bastava solo cantare perché uno può anche cantare al piano bar è meraviglioso io continuo ancora a fare i karaoke con gli amici mi diverto io volevo proprio esistere e resistere quando ti occupi di musica cosa ti piace di più scrivere il testo qual è la cosa che ti piace di più fare io prima mi dicevi siamo stati poco prima di salire su questo palco abbiamo chiacchierato un pochino che tu lavori tanto e non stento a credere in cosa consiste il tuo lavoro in tantissime cose in realtà in questo momento mi sto occupando della scrittura del mio disco e quindi le mie giornate infatti sono tipo effetto jet lag sono proprio incoglionita perché mi chiudo in studio alle 11 del mattino del mattino esco alle 11 della sera quindi mi manca tutto il ciclo solare e quando questa cosa si reitera nel tempo effettivamente ho capito che vivere senza luce del sole non è proprio una cosa che mi aiuta a stare sveglia proprio conscia però sono così e mi chiudo in studio fin quando non esce la canzone come la voglio io non torno a casa senti ma a parte quella che verrà e scriverai qual è la canzone che ti è piaciuto di più scrivere fino adesso me la fanno sempre anche a me questa domanda quindi la canzone la capita adesso amica la capita adesso gli ho trasferito il mio disagio vedi vai dimmi ma devo dire che non l'avrei mai detto ma quando ho scritto intervallo per mio papà è stato è stato bello e mi ha aiutato molto a elaborare l'enorme senso di colpa che mi trascinavo dietro da mesi perché quando lui è venuto a mancare io ovviamente dove ero fuori per lavoro 48 ore mi sono allontanata niente me l'ha fatta apposta proprio e quindi questa roba qui mi ha oltre a tutti i resti tutti i traumi che ho subito nell'ultimo anno e mezzo è una cosa che un po' mi ha mi ha violentata proprio male e quindi per assurdo scrivere intervallo mi ha aiutato a fare un po' pace con quella cosa che non stavo riuscendo proprio a buttare giù quindi intervallo è stata la canzone più bella che ho scritto fino ad oggi posso sapere a quale capolavoro stai lavorando? a capolavoro lo diranno loro se streamano scherzo no io sono uscita circa neanche un anno fa con souvenir che è questo disco che io definisco la cosa migliore nel momento peggiore della mia vita che potessi fare però è un disco dichiaratamente aperto perché per me è un viaggio e quindi sto scrivendo la seconda parte di questo viaggio il lato B di questo viaggio ma rimane aperto chissà però adesso mi sto dedicando a a quest'altra parte del viaggio ma gli argomenti? ma in realtà tratto tratto tante cose devo dire che sto facendo delle scelte abbastanza impegnate impegnative ma gli argomenti sono universali perché poi fondamentalmente indipendentemente dal lavoro che facciamo tutti passiamo le stesse pene nella vita e quindi attraverso le canzoni cerco di trasferire a me stessa in primis e agli altri il fatto che siamo tutti sulla stessa barca quindi invece di farci la guerra magari ogni tanto potremmo anche darci delle pacche sulle spalle e venirci tutti incontro sarebbe idealmente un mondo molto più empatico molto più accogliente molto più rispettoso molto più molto più pulito sotto certi punti di vista invece siamo tutti la ma perché non ci abbiamo un cazzo da fare perché se fossimo in un'altra parte del mondo dove veramente si consumano i disastri e le macerie vere della guerra forse non lo so non lo so forse mi piace pensarlo forse sono un'idealista romantica sognatrice però sicuramente il benessere occidentale ci porta a perderci nelle puttanate della vita perché perché stiamo bene fondamentalmente stiamo tutti bene forse troppo è partita un'altra voce di qua però vedi adesso si combatteranno no vedi vedi la differenza tra quartiere di questo è più educato è vero è vero è vero è vero è vero l'appoggiata bella bell'audio ci sarà la guerra ci sarà la guerra dei due mondi il bene riuscirà a sconfiggere il male o il male avrà la meglio come sempre sul bene chi lo sa e noi siamo nel mezzo siamo due ciucci non riesco ancora a capacitarmi come mai quei due lì non sono venuti cazzo ma lo sai che lo stavo guardando anch'io mi sta disturbando questa cosa è vero che disturba in prima fila le due poltrone vuote fanno di un incazzare guarda mi mandavrebbe voglia di dire a quei due là venite qui ma è meglio di no state là state là state là pensa se quei due posti erano destinati alla mia manager e alla mia PM della discografica e sono rimaste tipo in fondo che non si vogliono me pensa pensa se è colpa mia è colpa mia vuoi vedere che è colpa mia è colpa tua non lo so però la manager venite pure avanti eh eh ma è una brutta notizia è colpa mia non sono proprio venute no 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 ci sono ma si sono nascosti però non vorrei che quei due posti li avessero gentilmente beh c'è la manager li lasciamo invece niente no vabbè lasciamo così no no lasciamo così signor a canna ormai ci siamo abituati noi insistiamo ormai ci siamo abituati ci siamo abituati senti tu hai no ma poi tu hai anche fatto l'attrice no beh sì beh e com'è è diverso dalla musica è completamente un altro pianeta perché nella musica metto in scena me stessa non ci sono maschere non ci sono non c'è un ruolo scritto per te te la devi un po' sbrigare da sola invece nella recitazione c'è un mondo c'è un c'è una sceneggiatura c'è un regista che ti dirige che poi ovviamente tu cerchi di empatizzare col personaggio però è molto mi piace molto recitare è divertente perché è bello ogni tanto essere un'altra persona no eh sì è bello il gioco del teatro che interpreti qualcun altro no il problema è la la memoria ecco la memoria? beh io nella musica tipo se dovessi fare un concerto su questo palco sì ci sarebbero almeno tre televisori per il gobo tre oppure se il palco è due metri per tre tre televisori fissi oppure ti specializzi nell'improvvisazione perché con Aldo non si ricordava un cazzo per cui dipende capito? dipende dipende però se la canzone è quella lì non è che puoi cantare le tue canzoni poi my way cioè capito? ecco la difficoltà maggiore l'ho avuta con Muccino che lui sai che fa questo piano sequenza che durano nove minuti quindi nove minuti sono almeno quattro pagine di copione dove nel frattempo ti devi ricordare di sbattere la porta lanciare la sedia prendere la borsa prendere un bambino mandare a far culo qualcuno quindi tu fai tutte queste cose in otto minuti e devi recitare ricordarti il testo ricordarti le pause però hai anche dei movimenti quando c'erano le scene di piena di sequenza si incazzava poi lui no 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 perché poi alla fine in qualche modo alla fine me la cavo sempre però io mentalmente tipo poi dopo stavo in breakdown per cinque giorni le convulsioni per riuscire a fare quella roba capito le convulsioni dopo la febbre mi saliva io non mi ricordo niente ma io ho lo stesso numero di telefono da 15 anni e faccio tipo mia madre lo leggi mi dai il tuo numero se ti hai leggi non lo so non lo riesco a memoria vedi i numeri non mi entrano i numeri vabbè ma fatti vedere da qualcuno non è così grave cioè anche loro sono in cura cioè non è gli alagrammi vai grazie a tutti 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 ti voglio chiedere due cose qual è il tuo rapporto con i social con i social divorziata no scherzo ma io io gestisco personalmente tutti i miei social e quindi probabilmente avendoli gestiti sempre da sola dall'inizio ho creato un mio modo personale per comunicare con le persone e quindi mi diverto e non sento cioè anche se ogni tanto leggo delle cose continuo purtroppo a leggere magari delle cose brutte che mi scrivono me ne fotto molto banalmente non non do peso finalmente ho imparato a mettere le cose nei cassetti giusti e allora poi c'è il cassetto scemi del web pieno proprio lì però come te lo chiami il cassetto? degli scemi del web scemi del web scemi sceme non mi interessa vivo benissimo sui social mi mostro poi per per quella che sono non è che lo vivo come un lavoro come una roba che anche lì devo performare bene quando mi va esprimo i miei pensieri a volte sono simpatica a volte sono riflessiva a volte sono semplicemente figa mi mostro come una figa comunque anche quello ha un valore il valore della festa dirlo a me che ho fatto della fighitudine la mia essenza di vita giusto ti capisco sì senti un po' e invece si stanno guarda anche qua inizio stanno vedi momento festa quasi sono proprio accesi ma adesso 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 sparigliamo un po' senti ma immagino che ha detto solo immagino parola immagino fa ridere prima siamo passati una mezz'oretta fa dal tema malattia quindi immagino che qualche pensiero hai avuto qualche preoccupazione no che poteva capitare il peggio e ti chiedo sei al di là di quell'occasione che mi sembrerebbe quasi normale se hai mai pensato a dopo all'al di là a queste cose sì ci ho pensato perché la prima era andata così poi è tornato la seconda volta poi è tornato anche la terza quindi dopo la seconda intorno alla terza ho iniziato a fargli un po' di pensieri era incazzata con lui? tuttora tuttora diciamo che siamo in un momento con gli avvocati in mezzo ci parliamo ci sono delle diffide ogni tanto momento difficile quindi sì sì ma io non io sono molto pragmatica quindi non è che pensavo all'al di là dall'al di qua cioè quando quando ho iniziato a capire che la cosa si sta facendo un po' più seria banalmente il mio pensiero è stato molto più terra terra sistemare le carte i conti bancari aiutare cioè dare accesso ai miei genitori sistemare i miei amici cioè ho iniziato un po' tipo a fare un po' di domande tipo strane alla banca ma se succede tipo che non ci sto più ma tipo come funziona cioè mi informavo sì mi sono informata cioè dove vanno le mie canzoni chi si deve prendere tutti i miei diritti cioè ero più pensavo più alla terra tanto quando mori non ci sei che non lo sappiamo cosa succede forse restiamo nell'aria come energia come spi non lo so non so non lo so cosa credere ma forse perché appunto sono una donna molto attaccata proprio radicata nella terra io terrona appunto penso alle cose pratiche della vita non ti sottovalutare non sei solo si percepisce dalla tua personalità che non sei solo attaccata banalmente alla terra sei attaccata fortemente alla vita mi sembra che questo traspaia da te no? forse sì poi quando passi questi momenti per assurdo ti ti attacchi ancora di più vivi sempre sul chi va là perché sai non escludiamo mai i ritorni però sì toccatevi però sai vivi no però guarda quando passi da quella roba è ovvio che qualcosa scatta dentro di te cambi modo di vivere io però secondo me vivo meglio adesso di prima cioè la malattia per assurdo nonostante mi abbia lasciato dei vuoti in tutti i sensi incolmabili per assurdo però vivo molto meglio adesso la vita di come la vivevo prima cos'è che ti fa divertire? i video dei bambini che cadono distinto materno è brutto ma vorresti raccoglierli? no no io me li se succede allora se succede io li raccolgo ma sommersi alle risate cioè comunque io mi lancio beh io mi lancio pure se caschi te cioè mi lancio comunque sono una che si lancia ad aiutare sempre però io tipo proprio me li vado a cercare sul web video di bambini che cadono e me li guardo al loop e rido magari è lo stesso video dai 5 ma io rido perché quando cascano poi quando cascano tipo storti così è bellissimo rido è una cosa cinismo però è la verità sì sei un po' cattiva però no sono cinica oggi ne ho visto uno oggi era in aereo di un bambino forse l'avrete visto forse anche tu di un bambino che va dal parrucchiere no? e gli fa finta di tagliargli l'orecchio e gli esce il sangue no no è un altro no era molto più se non c'è il sangue non ride no è bellissimo perché questo va con la macchinetta dietro sente il solletico e il bambino comincia a ridere come un pazzo e ho riso solo io e non me lo ricordo e il parrucchiere ride come un pazzo anche lui vanno avanti cinque minuti a ridere ma lui sai quel bambino quei sorrisi meravigliosi dei bambini adesso cercalo adesso in direct in direct su instagram nei messaggi privati in direct poi te lo fai dire adesso mi faccio aiutare da loro poi te lo mando nei DM ti mando tutti i video che mi vedo io e poi vedi come rido altro che il barbiere il bambino ride stanno in certi video volano proprio i bambini che volano dallo scivolo le robe ma perché? perché fa ridere io solo il pensiero rido senti un'altra roba un po' meno stronza che ti fa ridere un'altra cosa un'altra cosa meno stronza quando chiamo quando chiamo tipo mia mamma che poverina pure lei nell'ultimo anno ha dovuto imparare a fare mille cose perché prima c'era mio padre avevamo tutti settati adesso pure lei mi fa ridere mia mamma quando tenta di farmi le chiamate su FaceTime poi sbaglia e poi lei pensa di aver chiuso la chiamata e la vedi lì tipo Aldo che va in giro ma io ma benedetto il signore ma io ma come si faceva ma io avevo e però lei non capisce io facevo e poi però mette muto e non mi sento io facevo mamma mamma e lei che si mortifica in giro per la casa poi tipo il telefono lo appoggia ma siamo ancora su FaceTime e io rido povera mamma dimmene un'altra poi andiamo a mangiare va un'altra cosa che mi fa ridere è che io non è che so cioè essendo intelligente c'erano queste cose proprio un'altra cosa che mi fa ridere è ah mi ho trovato gli animali che cadono tipo quando si spaventano i gatti che saltano all'improvviso oppure un'altra cosa che mi fa ridere tantissimo i gatti quando gli sparano le pure salta l'operare no 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 i gatti tipo no spostagli un po' sempre di qua così no che tu vedi questi gatti sulle mensole e questi non farlo cadere no e fanno cadere le robe dalle mensole capito tipo con quella zampetta un po' più bravo e io rido però se lo vedi adesso noi sembriamo due cretini però se lo vedi fatto da un gatto è sì sì funziona funziona è divertente questo no questo no deve durare ancora due anni sai cosa mi fa ridere ancora guarda che su tiktok sono i terremoti tu ce l'hai tiktok cos'è che c'ho tiktok eh vabbè tiktok non so cos'è sono mica ricoglionito certo che ce l'ho allora tipo il vostro trio Aldo, Giovanni e Giacomo chi? il vostro trio Aldo, Giovanni siete tipo siete sempre virali perché nella home compaiono un sacco di video di vari spezzoni dei vostri show a teatro sì che io ho già visto ho già visto il DVD di tutta la mia adolescente tutta la mia vita però tipo ancora lì che rido tipo a pomeriggio proprio oggi pomeriggio mi è capitata la roba del teatro sai l'avete fatto voi eh che siete a teatro sì lo so che arriva a Giovanni arriva a Aldo sì sì arriva prima a Giovanni sì no quello no io voglio il mio posto da mio popo arriva a Aldo sì 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 eh tipo mi fate ancora ridere ah noi ti facciamo ridere voi mi fate ridere grazie ah grazie sì non hanno riso loro però comunque perché non c'è cultura non c'è cultura non c'è cultura non c'è cultura dell'umorismo italiano non c'è cultura non riesco né a scendere né a salire né a scendere né a salire questo è una questo è diventato un meme sì tanti oggi per esempio per una nota vicenda calcistica eh che cazzo c'entra scusate potete prendere le generalità di quei due lì questi non entrano più a teatro eh oggi per una nota vicenda calcistica che è successo? no non so se sei presente la storia di Acerbi Joan Jesus sì 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 sono sul pezzo sei sul pezzo sì tu ti fai per qualche squadra? no volevi dire una roba brutta? no 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 una fede calcistica no 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 una fede calcistica una simpatia? Napoli eh vabbè pensavo peggio no no Napoli appunto Inter-Napoli Acerbi sì sì so che è successo e quindi oggi Acerbi è stato assolto dei memmi meravigliosi no soprattutto io che commento questa cosa mi quanto è bella la mafia è una è una è una delle battute più scorrette che un comico abbia mai potuto dire al mondo e l'ho detta io capisci? una persona così per bene e mi diverte un casino ma ma perché questo questo siccome tu ne hai parlato e mi hai dato il lano il gioco dell'attore è meraviglioso perché ci permette di divertirci interpretando persone o cose o comportamenti che mai faremmo nella nostra vita comunque mi quanto è bella la mafia per dire signori e signori Emma Marrone gioco ma la parete take one, take one, take one, take one, take one oh no no ma stai scherzando ma sta no it's for you no ma me la doveva tatuografare però eh adesso te la fotografo eh però vorrei che quei due lì se ne andassero è la prima opera d'arte che metterò in casa mia grazie Emma Marrone yeah grazie oh Grazie per la visione!